Felice di averti qui, quanto sei speciale, io non so come interagire con queste fans globali che ci sono qui oggi Sono davvero speciali, davvero speciali Quando ho scoperto il dover venire al Tudum perché l'abbiamo già fatto, ma con il covid era virtuale, ma è grandioso Ma non c'era nessuno da incontrare, chiamava lo show e ringraziare E loro sono passionali, tipo loro si svestono, urlano, corrono in giro Io mi sento come Beyoncé, ma sono stata al concerto di Beyoncé l'altro giorno Le persone mi hanno fermata, erano fan di Bridgerton e la mia amica era tipo No, senza offesa, ma sono qui per Beyoncé, non mi importa di te Ma a loro importa A loro importava E come ci si sente? È davvero fantastico Eri al concerto di Beyoncé, le persone ti hanno fermata e ti hanno detto che sei una regina? Beh, io pianto al concerto di Beyoncé, beh, come potevo non farlo? Era così vicina L'hai incontrata? No, era solo al club della rinascenza e io tipo Beh, si dovrebbe andare a Los Angeles Sì, oh mio Dio, mi piacere Voglio comprare i tuoi guanti per Beyoncé Oh sì, per favore, sì Allora, cosa significa essere qui a promuovere la nuova stagione di Bridgerton sapendo che sei al centro di tutto? È molti citanti e spaventoso, vorrei tanto che Luke fosse qui e l'altro protagonista Ma è andato a fare uno show fantastico, ma è davvero triste di non esserci E tipo, cosa mangi? Cosa succede laggiù? Ed io sono tipo, tipo, scusa ma Chris Smith è il balestra oggi L'hai visto? No, non ho portato la tuta, ma mi sto pentendo Però gli direi, guardami, insomma, mi alleno anch'io Si è allenato con Arnold oggi Se venissero in palestra io uscirei subito dalla porta Sì, sì, probabilmente lo farei anch'io Però gli direi, posso allenarmi con voi? Ok, ciao Simone Ashley ha detto che il teaser della stagione è il più hot di sempre Quindi dimmi com'è stato girare lo Spicy Pauling per te Terrificante Perché io e Luke abbiamo letto i libri all'inizio della prima stagione Ed eravamo tipo, ah, immagina a fare questo Ah, immagina a baciarci E poi successo ed eravamo, mio Dio Insomma, è mio amico Dovevo baciare un mio amico e non potevo farlo per finta Però, eh, Spicy Però ci sono tante cose dal libro che troverete nello show Sono molto emozionato per l'uscita, sai? Dici altro Oh mio Dio C'è stato un giorno che c'era questa scena molto romantica E ci prendevamo in giro a vicenda ridendo Perché dovevi guardarti dritto negli occhi ed eravamo tipo Oh mio Dio Sì, sì Veloce, come descriveresti la stagione in una parola? Romantica Perché la prima era sul desiderio La seconda era sul... No, 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 no La prima era sulla passione La seconda sul desiderio e la treromantica E così romantica Tieni mi aggiornato, oddio Certo Goditi il resto del tempo qui Grazie mille